su gli emendamenti all'articolo 10 all'inizio, mentre abbiamo i pareri del relatore di maggioranza e del Governo. Se ritiene scende al Banco dei Nove e le facciamo liberare una postazione. Prego. Va bene, adesso eccezionalmente ormai siamo lì, dai, via. Facciamo da lì, facciamo da lì, per così non facciamo uscire tutta la fila. Prego. Però li chiamo io, così facciamo bene. Sì, Presidente, in realtà mancavano anche quelli del relatore di maggioranza sull'articolo 10, perché mancavano, mi sembra, i pareri della Commissione Bilancio. I pareri del relatore Ermini ci sono e sono contrari su tutti. Quindi adesso io ho 10 e il Governo anche. Posso chiedere una sospensione di due minuti? Sono quattro emendamenti, sì. Due minuti. Va bene. Sospendiamo senza... Insomma, sospendiamo per due minuti, rimaniamo qui. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.